In casa tua c'è il pulito sicuro. Certo, io uso ogni giorno l'Isoform Casa e ho pulito sicuro sui pavimenti, pulito sicuro sulle piastrelle, pulito sicuro su tutte le superfici lavabili, pulito sicuro l'Isoform, sicuro perché disinfetta in tutta la casa. Ogni giorno l'Isoform Casa, pulito sicuro perché disinfetta. Leggere attentamente le avvertenze.